Per noi Giusto per raccontare Mi senti Riccardo? Sì Allora c'è Ronaldo Profittiamone per tornare in diretta che c'è un gran lancio di Bernardeschi per Ronaldo che è solo a posizione regolare Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo La prima volta in bianco nero Mette la palla all'incrocio Batte Loria, freddissimo su una splendida sventagliata di Federico Bernardeschi Buono il controllo, freddezza glaciale 1-0 per la Juve sulla primavera Inevitabilmente Cristiano Ronaldo A portare in vantaggio i suoi Ci aveva provato con un sinistro alto poco fa Ci è riuscito Dopo neanche dieci minuti Gran palla di Bernardeschi Gran movimento di Ronaldo Che aggiusta il pallone E con tutta calma lo sbatte all'incrocio Dove Loria non può arrivare Juve 1, primavera 0 Il gol di CR7 Dopo neanche dieci minuti